muovetevi un pochino un po di movimento e poi quando un occhio alle telecamere non proprio fissi da fermo capito se no sembra che guardate spesso la telecamera importante va bene se no perché lo schermo lo metti qualcuno canta anche due tre canzoni vabbè in cui volevo iniziare allora siete pronti go on non così ma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera e ben trovati alla tanto attesa seconda puntata di Nuove Voci, lei la traduzione musicale e televisiva ideata ed organizzata da Loris Gismondo. Anche in questa seconda puntata siamo immersi nello splendido verde di Marciano qui per l'appunto a... A me di regalo ti immagina, vai piano piano si rovinia, quando ti vedo con gli altri tu non sai quanto vorrei essere... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora diciamo, perciò se non è illuminato... Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.